A dieci giorni dal vertice politico, tra il sindaco di Pavia, Fabrizio Fracassi e dei partiti della maggioranza di centrodestra, il rimpasto si fa sempre più vicino. Martedì mattina è in programma infatti un nuovo incontro a Palazzo Mezzabarba. Questa volta saranno presenti soltanto il primo cittadino e la delegazione di Pavia Prima, la lista civica che da mesi spinge per avere una rappresentanza all'interno della giunta del capoluogo. Un vertice ristretto che fa pensare che sul tavolo verrà posto il tema delle deleghe. Sono diverse le ipotesi avanzate da Pavia Prima nel corso delle settimane. Commercio, rapporti con ASM e pari opportunità quelle maggiormente accreditate, secondo i ben informati. Difficile che la cultura in quota lega possa invece passare alla lista civica. Dopo le dimissioni di Mariangela Singali, le deleghe sono rimaste infatti in capo al sindaco e rientrerebbero eventualmente in quota lega. È quindi possibile che oltre all'inserimento in giunta di Pavia Prima, Fracassi possa optare per un piccolo rimpasto delle deleghe tra gli assessori, magari assegnando proprio la cultura. Ipotesi allo stato attuale. Il vertice di martedì mattina fornirà certamente un quadro più chiaro della situazione, anche se non sarà risolutivo. Si discuterà di deleghe e Pavia Prima ribadirà il nome dell'avvocato Alessandra Quatrini come assessore. Dopo il passaggio con la lista civica, Fracassi si confronterà mercoledì con la Lega per avere via libera definitivo al rimpasto.